Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su Fuzimib e DAX. Perché anticipo questo genere di analisi prima dell'apertura del mercato anche quest'oggi? Per un semplice fatto che in questo momento stiamo perdendo parecchio sui future. Abbiamo un meno 600 punti, 605 punti per quanto riguarda il MIB e un meno 307 per quanto riguarda il DAX. Di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo concentrarci sulle cose più importanti in questo momento. E le cose più importanti sono esattamente quelle di cui parlavamo nella scorsa analisi. Ovvero, guardiamo chi comanda. S&P 500, come vi dicevo, è importante scendere per andare a chiudere almeno un mensile. E noi in questo momento siamo arrivati con la giornata di ieri di grande discesa alla trentesima barra su massimo 43, tra l'altro, e in media 32. E non abbiamo ancora trovato un minimo sufficiente per la chiusura del mensile stesso anche se ieri abbiamo superato, in discesa, il minimo a 4.222 dollari. Per cui diventa importante capire che cosa vogliono fare. Vogliono fare una chiusura canonica e quindi ritorneremo sotto i 4.114 dollari. Oppure no? Per che tempo ne hanno? In questo momento il settimanale è soltanto a una durata media di 8 barre. Con un'altra long red, come questa, si torna in giornata a scendere sotto. E ripetisco, vedendo i future in tempo reale, non è che ci sia moltissimo da raccontarsi, d'accordo? E l'altra cosa di cui tenere conto però è questa, che siamo arrivati oltre le 200 barre di ciclo annuale. Per cui abbiamo una condizione sufficiente per la chiusura di un annuale che vedere ribassista, o quasi ribassista, almeno neutro, su S&P 500, non si vede così tanto spesso. Cosa faremo quindi per quanto riguarda la giornata di oggi? 1. Andremo a contare le barre sopra questo minimo. Se, prima di andare in violazione, ne avremo almeno, si spera, se ce la faremmo ad averne, almeno 48, ricordatevi che rischiamo un altro settimanale ribassista. Ed inverso, possono fare tutto quello che desiderano prima di rimbalzare per una chiusura di T inverso e andare a chiudere magari, ma adesso mi porto troppo avanti, un T-1, l'indice. Poi, altra cosa interessante, stessa identica cosa su DAX, abbiamo ripreso di forza questo livello. Qui siamo serenamente indietro per quanto riguarda il comparto dell'inverso, anche se nella realtà, di fatti, abbiamo la condizione effettiva però di una chiusura di un T inverso qui. Ragionate. Ragionate perché è importante. Qui abbiamo chiuso, come minimo, un T-2 inverso. Adesso, altra cosa, non riusciamo a superare, se non temporaneamente, la media mobile veloce, questa rossa, e chiudiamo sotto. Quindi, fino a quando l'S&P 500 non avrà fatto almeno la condizione sufficiente per la chiusura, guardate che discesa ieri, la chiusura di questo mensile, è caldamente consigliato evitare i long, anche se continuo a vedere i trader che provano a vedere se arriverà il rimbalzo. Noi, eventualmente, prendiamo gli short, attendendo, come abbiamo fatto ieri, che il mercato salga, per averlo da dei prezzi più alti, e quindi più convenienti, per andare a guadagnare facendo short. Vi ringrazio per il vostro tempo, e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci. Arrivederci.